Il libro dei mostri Ciao ragazzi, oggi vediamo come realizzare un simpatico disegno del libro Mostro dei mostri che spalanca la bocca e poi voglio ringraziare dei 4.000 iscritti siamo veramente tanti ma continuate così perché a 5.000 ci sarà un video veramente speciale forse una nuova canzone dedicata ad Harry Potter quindi condividete tutti i link dei video del canale con i vostri amici e adesso vediamo come realizzare il disegno del libro Mostro dei mostri e adesso vediamo come realizzare il nostro canale con i vostri amici e adesso vediamo come realizzare il nostro canale con i vostri amici e adesso vediamo come realizzare il nostro canale con i vostri amici e adesso vediamo come realizzare il nostro canale con i vostri amici e adesso vediamo come realizzare il nostro canale con i vostri amici e adesso vediamo come realizzare il nostro canale con i vostri amici Grazie a tutti. Grazie a tutti.